Questo programma è presentato da Autotrasporti RDS Acreodesign.it Casa di riposo Villa Nadia Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey è specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome Autotrasporti RDS Trasporti su strada a livello nazionale e internazionale Trasporto merci, conto terzi e logistica Facchinaggio e smistamento pacchi Confezionamento e imballaggio Dotata di un parco veicoli all'avanguardia con sistema di geolocalizzazione ha come principale obiettivo la creazione di un rapporto professionale di fiducia basato su una esperienza consolidata nel tempo Per informazioni www.autotrasporti-rds.it Autotrasporti RDS Trasportiamo il tuo business Eccoci qua, pronti per cominciare questa nostra chiacchierata questa mezz'ora quotidiana che facciamo con i nostri due campionissimi Ciccio Graziani e Vincenzo D'Amico Eccoli qua Ciao, buongiorno Buongiorno a tutti Anzi, buongiorno Ma che buongiorno Buonasera Buonasera Buonanotte Ma sai che cos'è? Siamo rinforzati tutte e due No, ma qui sai che cos'è? Che qui fino alle otto e mezza è giorno Quindi io guardando fuori mi è sembrato giorno Ma qui dove? Diciamolo qui dove? Ma qui si può dire dove? Certo A Madeira A Madeira Eh ragazzi L'isola che fu di Cristiano Ronaldo Adesso è la mia Eh 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 Cì Lui sta a Madeira E attenzione ragazzi Portogallo Lui sta a Funcial O no? Funcial Nell'isola di Madeira Bravo Ciccio Che fai Per essere proprio precisi E andiamo E andiamo E andiamo E poi E poi questo Guardando fuori Ancora giorno E poi questo fedente Sotto casa C'ha dei chioschi Come spesso succede in Sicilia Dove ti fanno Ti prendono il polpo E te lo fanno lì Cotto subito Alla braccia Al guazzetto Che fai Con due euro Pensa che Che botta di fortuna Che c'è questo ragazzo Che bello Questo ragazzo Bello dai La mia botta di fortuna Che ho giocato insieme a te Hai reciproca la cosa Però io lo dico sempre Questa cosa la dico sempre Vincenzo una volta C'era Io Avendo Vantandomi Di avere questo rapporto Personale con voi In privato Già te l'ho detta Sta cosa Già detta davanti Anche a Ciccio Ciccio mi disse Che uno dei giocatori Più forti Con cui aveva giocato Era Vincenzo D'Amico Ho detto Ho sempre detto questo Dopo Gianni Rivera Per fantasia Per estro Per qualità tecnica Vincenzo era subito dietro Nel calcio italiano Tecnicamente due fenomeni Sono stati Uno è Gianni Rivera Io l'ho conosciuto poco Gianni Però quel poco L'ho conosciuto Gli ho visto fare delle cose Incredibili E ho avuto la fortuna Di vivere invece Nel periodo di Vincenzo Vincenzo tecnicamente Non c'è ancora oggi In Italia Un calciatore Ciccio Mi emozionano Non è che ti emozioni Vincenzo Tu avevi Patronanza Di destro Di sinistro Fantasia Estro Imprevedibilità Che io non ho mai più visto Nessuno In Italia Io ho giocato con Bruno Conti Ho giocato con Antognoni Ma la patronanza Di palleggio Di sensibilità Di lancio Tu lanciavi Tranquillamente A 60 metri Di destro Di sinistro Per te era Era uguale Non cambiava nulla E la stessa cosa Ho visto fare a Gianni Rivera Non l'ho vista fare a Cruyff Non l'ho vista fare a Mazzola Avevano altre caratteristiche Antognoni A Bruno Conti A Claudio Sala A Causio I giocatori un po' talentosi Ma quello che avevi tu Era qualcosa di speciale Che non ho più rivisto Ti dico un'altra cosa Anche a livello europeo Non ho mai più visto Giocatori con queste qualità Destro e sinistro La stessa cosa Ho già cenato stasera Troppo a scocosire Bello è bello Dai va bene Va bene va bene Mi è piaciuta questa cosa Iniziale Siamo partiti bene E' chiaro che In questi giorni Noi normalmente Scorriamo Leggiamo un po' Quello che accade Nella quotidianità sportiva Calcistica In particolare Per approfondire Un po' Gli argomenti Diciamo che questa È una settimana particolare Perché Perché c'è la sosta E perché È successo Quello che è successo Domenica sera Perché avete cominciato Perché insomma Dovevamo cominciare Il primo giorno di ottobre Abbiamo cominciato in cinque Siamo capitati Con la sosta del campionato Però Però Gli argomenti Insomma come al solito Poi con due campionissimi Non soltanto Calcistici Ma anche Verbali No Con due opinionisti Come voi C'è sempre da parlare E Scusate Scusate Una curiosità Visto che io vivo all'estero Ma Patrick E a Vidal Quante giornate hanno dato Eh Credo una giornata No Credo una giornata Delle espulsioni Forse due giornate Forse due giornate No 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 A Patrick E a Vidal Quante giornate hanno dato Per l'espulsione Due giornate Due giornate Cioè quella è la farsa Hanno squalificato Squalificheranno Immobile Immobile per una giornata 10.000 euro Di Essenzi Ma a Patrick E a Vidal Anzi Forse qualcuno Potrassi che gli dia Anche un premio Sì 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 Ho letto Ho letto Eroe Qualcuno qui 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 a Roma Ha detto Patrick Eroe Non so Io mi vergognerei Se fossi in Patrick Io pure Vabbè Insomma dai È stata È stata Una partita Diciamo Particolare Da questo punto di vista Però Al di là Degli episodi Opinabili Degli episodi Discutibili Che partita è stata Che Lazio avete visto E che Inter avete visto Soprattutto Ci parto io Sì sì Allora io dico Benino l'Inter Bene La Lazio La Lazio Sia con l'Atalanta E sia Con l'Atalanta per esempio Sotto il profilo del gioco Non mi era dispiaciuta Se Avesse avuto la possibilità In quella seconda opportunità Con Immobile Di andare sul 3 a 2 Forse avremmo visto Un'altra partita Però il calcio è fatto Di momenti Di episodi E quindi Però la Lazio È uscita Dal campo Pur perdendo A testa alta Giocandosela Con l'Inter L'ho vista un pochino Più in difficoltà Nei ritmi Nel far girare palla Nel verticalizzare Ho visto Una Lazio Anche Luiz Salberto Un po' confusionario Lucas Leiva C'era e non c'era Milinkovic Un po' in affanno Ecco Immobile Poco 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 servito Correa Rientrava da l'infortunio Anche lui Non mi sembrava Nelle migliori condizioni Ho visto una Lazio Un pochino Meno brillante Rispetto Alle altre volte Mentre l'Inter Ha iniziato bene E quando poi Va in vantaggio Anche dal punto di vista Psicologico Ti si apre un mondo Completamente diverso Devo dire che Come occasioni Ne ha avute più l'Inter Forse Se avessero avuto Un pochino più Di bravura e di fortuna La potevano anche vincere Non hanno approfittato Di quei 20 minuti Dove è stato fuori Immobile Giocando in subita numerica Però insomma Anche l'Inter Non è che in quella partita Mi abbia entusiasmato Devo essere sincero Vincenzo Allora Allora Per quanto riguarda la Lazio Purtroppo La Lazio È condizionata Troppo Dalle prestazioni Dei suoi 4-5 Giocatori Di altro livello Di un livello superiore Hai detto bene Ciccio È mancato Immobile Ha sbagliato il gol Però insomma Immobile La prestazione Te la fa sempre Perché dà una mano Guarda Immobile Per caratteristiche È molto simile a te È uno che Tu devi una mano In mezzo al campo A tutti Immobile Fa lo stesso Viene dietro Cerca di andare A rubare palla Insomma È uno che si fa sentire Anche se poi alla fine Non segna i gol Che va a crearsi Però la Lazio Luis Alberto È indispensabile Leiva È indispensabile Correa E Milinkovic Sono determinanti Se non c'è questi qua Soffri Soffri contro chiunque Hai detto bene Ciccio Sia con l'Atalanta Che con l'Inter Comunque È stata una partita pari Poi hai preso 4 gol Con l'Atalanta E diventa Quasi Ridicolo Però hai giocato La pari Assolutamente Assolutamente Adesso Un altro Un altro aspetto Raffaele Che va Va ricordato È che purtroppo La Lazio Quando deve mettere dentro Le alternative Attraverso la panchina Tranne quelle due Tre certezze Il resto È tutto ancora È ancora allo studio Perché sono arrivati Anche dei calciatori nuovi Si sono mossi Hanno fatto vedere Qualcosetta Ma io credo Che Caseido Cataldi E forse Qualcun altro Poi il resto Parolo Parolo Poi il resto Mi sembra Ancora tutto Tutto da decifrare Allo studio Hanno preso Dei ragazzi giovani Sono entrati Veloci Rapidi Però come costruzione Ecco perché do ragione a Vincenzo Se lì vengono meno Luiz Alberto Milinkovic Correa Leiva Immobile Con pochi palloni giocabili Acerbi Ha fatto la guerra Con 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 Lukaku Però Ecco La Lazio Noi l'avevamo vista Giocare meglio Rispetto a quelle Prestazioni Sicuro Però siamo all'inizio Quindi diamogli tempo Allora Dobbiamo anche parlare Di un argomento Perché è chiaro Che in queste ore Si è parlato E si parla Di Questo Di questo Io delle volte Devo trovare L'aggettivazione giusta Di questa cosa L'aggettivazione Non la voglio trovare Di questa cosa Che stiamo vivendo E cioè Sarebbe questo Coronavirus Che da qui A poco Mi auguro Pochissimo Sarà un ricordo Per tutti noi Un bruttissimo ricordo Ma sarà un ricordo Ma è un ricordo Che nella storia Non è Specifico Singolo È un evento Nefasto Negativo Che normalmente Nella storia Avviene una volta Ogni secolo Ogni cento anni Ci sono state Queste pandemie Una volta Ogni cento anni Peste nera Eccetera Peste bubonica E varie E varie malattie Quindi anche per noi Sarà Un ricordo Anche perché Quando è arrivato Sembrava quasi L'apocalisse Ma in molti Non evidenziavano Che storicamente L'umanità Ogni cento anni Vive una pandemia Ma è una cosa Che stiamo Vivendo noi Come una Iattura Come una maledizione Che è capitata Alla nostra generazione È capitata Ogni cento anni Ma detto questo Dopo questo riferimento storico È anche perdonatemi Tranquillizzante Perché secondo me Il ruolo Di chi fa informazione È questo Che molti capoccioni Imbecilli Stupidi E qui Voglio creare Quanti più aggettivi Negativi possibili Non capiscono E che alla gente Chi fa questo mestiere Deve informare Assolutamente Ma non Terrorizzare E invece Noi sono Sei mesi Dall'otto di marzo Che vediamo Questi Clown Che fanno Solo terrore Qualsiasi cosa dicono Qualsiasi cosa fanno Relativa al coronavirus È il terrore Loro sanno fare Soltanto terrore Siccome io Non voglio far questo E mi sento Proprio Per una voce di etica Professionale Bisogna cercare Di dire alla gente Di stare attenti Di usare Tutte le precauzioni Possibili Immaginabili Ragazzi Ma non è la fine del mondo Non è l'apocalisse È una cosa Che prima o poi Passerà Mi auguro Prima Che poi Allora Raffa Scusa Perdonami Allora La distanza Le mascherine Va bene tutto Non costa niente Mettersi la mascherina Uscire o andare nei posti Con la mascherina Poi Bisogna vedere Chi la mette bene Chi la mette male Nei posti giusti O meno indicati Però mi piacerebbe sapere Veramente Realmente Cosa è successo Perché adesso si dice Io metto la mascherina Fino a qualche tempo fa Con mia moglie Uscivamo con i guanti Gli occhiali Sembravamo astronauti Quindi E va bene Mi piacerebbe sapere Effettivamente Come stanno le cose Mi piacerebbe sapere Come è mai Che adesso si trovano I contagi Superiori A qualche mese fa E qualcuno dice pure Se fai più tamponi Trovi più Contagiati Anche lì Vorrei sapere Veramente Come stanno le cose Mi piacerebbe proprio Capire Sapere La verità vera Cioè Attenzione Io Prima che tu Ti esprimi Vorrei chiarire una cosa Oggi Siamo più preparati Rispetto al mese di marzo Ma questo non soltanto Dal punto di vista sanitario Anche le terapie intensive Sono più preparate No ma anche Credimi Ma anche noi Siamo più preparati Io ricordo che noi a marzo Facevamo delle produzioni Abbiamo fermato Perché non sapevamo Come affrontare Oggi Può capitare Non ci laura qualsiasi cosa Ma noi saremo sempre qui A parlare con voi E mi auguro di no Mi auguro di continuare A parlare di calcio In questa stagione Con voi E di calcio Chiaramente Con D'Amico e Graziani Si può anche parlare di altro Fortunatamente E noi abbiamo fatto Quante volte Esperimenti Anche parlando di musica Perché insomma Rappresentate Non soltanto Qualcisticamente qualcosa Però è chiaro Io mi auguro di parlare di calcio Ma se non Ma se dovesse succedere Quello che noi Non ci auguriamo Noi staremo ancora qui A parlare di altro A tenere compagnia Le amici da casa Con altri argomenti Ma siccome voglio parlare di calcio Mi auguro di parlare Ciccio Le notizie Sì Le notizie Relative al calcio Sono anche che La Lega Sta preparando Un piano B E cioè Il giorno di andata Farlo come Stanno facendo Nel giorno di ritorno Fare Una fase A orologio E poi I playoff I playoff E i playout Che questo Taglierebbe circa 40 partiti Hanno capito Che sicuramente Però diciamolo subito Quello che può succedere Avvertiamo Le società Le squadre No che poi All'ultimo Qualcuno si sveglia E ci dice Ah ok Si fanno i playoff Bravo Tu che ne pensi? Ma io Che ti devo dire Ora mi sembra Fantascienza Questa qui Perché se le cose Vanno come devono andare L'abbiamo iniziato E molto probabilmente Lo finiremo A meno che Non vengono fuori Situazioni Che oggi Noi non conosciamo O preoccupazioni O pericoli Che oggi noi Non evidenziamo Proprio perché C'è una Grandissima attenzione Al problema Quindi molto probabilmente Anche nelle prossime settimane All'interno di club Di Serie A Di Serie B Ci sarà ancora Una maggiore attenzione Affinché Non succeda nulla Che possa mettere A repentaglio La stagione Però Non è che Fra cinque mesi A febbraio Se le cose Dovessero Un po' Peggiorare Qualcuno Si inventa Delle cose Che oggi Non esistono Non lo so Si metteranno D'accordo Le società La federazione Metterà in preallarme Il piano A Chiudere questa stagione Il mio limone Piano B Ipoteticamente Playoff E playout Piano C Non lo so Anche l'anno scorso Si è ripotizzato questo Io spero E mi auguro Che la grande attenzione Che c'è oggi All'interno Dei club Possa permettere Di portare avanti Questa stagione Anche avendo Qualche Piccolo Contrattempo Perché Il positivo Ce ne saranno Anche altri Che non solo Stabilire Quanti positivi Massimo Ci possono essere Per una squadra Per non poter andare In campo Perché è chiaro Se uno dice Ci sono dieci positivi In una squadra Ma ragazzi A me Se al Bologna Gli levi Dieci giocatori Li metti In mutande Oltremente Se gli levi Alla Juventus Può darsi Che questi Mantengono Una certa competitività Non lo so È tutto allo studio Studiamocele Ste cose Valutiamole Analizziamole Con le società E poi Stata facendo Per ogni Per ogni singolo Singola Giornata di Campionato Per ogni Situazione Da attenzionare Ci si ragionerà Con Con intelligenza E con pagatezza E proprio E proprio Su questa cosa Perché è chiaro Che la partita Che fa riflettere Anche prospettive È stata Questo Questo Juventus Napoli Si presume O meglio Si pensa Che il Giudice Sportivo Non darà Il 3-0 A tavolino Al Napoli Ma farà Ripetere la partita Probabilmente Questo è quello Che è sul tavolo Con uno O più punti Di penalizzazione Per la squadra Che non ha rispettato Le norme Covid Che erano state Stabilite A priori Da tutte le società Quindi anche Dal Napoli Il Napoli Chiaramente Attraverso L'avvocato Non ci sta E nemmeno Uno o più punti Di penalizzazione Accetto Perché a questo punto No Che cosa Facciamo il 3-0 Direttamente Eh no Che senso ha Raffa Non ci arrivo E nemmeno io Come è possibile Ti faccio rifare La partita Però ti penalizzo Però Con un punto in meno Perché non è rispettato Le norme Le norme Covid C'è confusione Ragazzi c'è confusione Dai su questo c'è confusione Non ci arrivo Però io penso Che il Napoli Sapeva Che poteva andare incontro A questo tipo di situazione Perché Se al tavolo Di Lega Hanno stabilito Tutte le società Che ci devono essere Determinati comportamenti Nel caso Nel caso in cui E se poi Tu non le rispetti Puoi andare incontro Cioè non è che In federazione C'è qualcuno Che dice Ma sai che facciamo ora Ma Ma diamo un punto Di penalizzazione Al Napoli Così perché No Se gli danno Un punto di penalizzazione È perché evidentemente Nelle regole del gioco È venuta meno Con Non facendo attenzione A determinate cose Allora Io penso che sia questo Io ora mi auguro Che non gli diano manco Un punto di penalizzazione Però Evidentemente Se ci sono stati Dei comportamenti Poco Poco rispettosi In un programma Che si era già stabilito Da tutti E allora amico mio Vuol dire che sei uscito Fuori dai binari Tu Allora ragazzi La soluzione Sapete qual è È Fare la partita Ma Insigne E Come si chiama Elmas Elmas Non giocano Questo Per la cusina di giustizia Assolutamente Vincenzo Sarebbe un controsenso No E no E no Almeno gliela fanno fare La partita No va bene Non è che puoi dire Puoi dire così Allora Io farei ripeto La partita Non darei punti Di penalizzazione A nessuno Però io L'ho detto Ieri Lo ripeto Comitato tecnico scientifico Governo Lega Federazione Gioco Calcio E società Si mettono seduti Scrivono Le regole E queste quattro componenti Determinano Tutto il resto Non ci deve essere più Nessun Organismo esterno Che possa Prendersi la responsabilità E dire Questa partita Non si gioca Quella partita Non si gioca Quella si gioca Questo devono fare Perché se no Diventa un problema Non si finisce la stagione Perché adesso È venuta fuori L'asle di Napoli Territoriale Campana Ma verrà fuori La Licuria Verrà fuori La Toscana Verrà fuori La Basilicata Ragazzi Ognuno poi dopo Dice ma come Che siamo più stupidi Di questi noi Con due tre giocatori Positivi E noi che facciamo Fermiamo E non la facciamo disputare La partita Con le conseguenze Che poi devi andare Comunque In quarantena Ma una quarantena Soft Che avevano già stabilito E però devi andare In quarantena Quindi a quel punto Non si finisce più Questo è quello Che io spero È che queste quattro componenti Siano le componenti Decisionali Su quello Poi addirittura Si potrebbero mettere d'accordo Se una squadra Ha più di quattro elementi Faccio un esempio Con Positivi al Covid Basta Quella squadra Si ferma E vedremo poi Strada facendo Come potrà recuperare Eventualmente la partita Che non giocherà O le partite Che non giocherà Noi siamo Noi siamo quasi in chiusura Io è chiaro Vorrei chiudere Perché Credetemi Io l'ho detto Nella prima puntata Nessuno mi potrà E mi pot tacciare Né di essere Filo Juventino Né di essere Antinapoletano Anzi Però credo che Al di là Poi delle passioni Ci mancherebbe Esatto Al di là della passione Che uno può avere Per questo Quell'altra squadra Che è una cosa Totalmente Umana No Vincenzo È chiaro Che essendo stato Bandiera della Lazio È vicino alla Lazio Ma è uno Che lo contraddistingue L'obiettività Perché Questo poi Secondo me Che differenzia Un giornalista O un opinionista Da un altro Ciccio uguale È legato Alla Roma Alla Fiorentina Al Torino Però è chiaro Che se deve dire Una cosa Di critica La dice Allora io vorrei Dire questo Noi viviamo In questo momento E non soltanto In questo momento Ma da un po' di tempo Un'Italia Dove le regole Normalmente Non vengono rispettate Allora Rifacendoci E chiudendo Su questo discorso E non me ne vogliano I miei Tra virgolette Fratelli napoletani Insomma Io Non è Non è un mistero Che sia tifoso del Napoli Ma questo non vuol dire Se Ci si siede ad un tavolo Si stabiliscono Delle norme E queste norme Vengono stabilite E accettate Da tutti Poi Perché Queste norme Non devono E non vogliono Essere rispettate Se così Facessero E facessimo tutti Ci troveremo Non in uno stato Di diritto Ma in uno stato Naturale E cioè Nel caos totale Perfetto Però come ha detto Ciccio Scusami Raffa Come ha detto Ciccio Se sono solo Quelle quattro componenti A decidere Che sono le componenti Sportive Basta Basta Queste cose Non succederebbero Bravo Basta Se no creiamo Il solito caos Che purtroppo Siamo vivendo in Italia Ma io personalmente Non so voi Io sono stanco Di vedere Questo caos Questo Ieri Addirittura In un'altra Trasmissione Radiofonica Ho dovuto discutere Con un tifoso Perché asseriva Che Secondo lui E' partito Tutto dal Napoli Il Napoli Ha chiamato La Asle E ha detto Ragazzi Noi qui siamo In difficoltà Ci manca Zelischi Ci manca Elmas Ci manca Gensigne Noi sta partita Non vogliamo Andarla a giocare Proviamo Una logica Una soluzione E quelli gli hanno detto Non ti preoccupare Ci pensiamo noi Ora entriamo in campo noi Ma io gli ho detto A questa persona Ma tu sei sicuro Di quello che stai dicendo Ma dove sta scritto E' da presente Il Napoli Dalla mia conoscenza Il Napoli era già pronto Per partire Nonostante tutto Poi è entrato Un organigramma Al di fuori Delle regole Che hanno già state Sottoscritte Che si è presa La responsabilità Di dire Caro Napoli Tu non puoi partire E il Napoli Non è partito Ma ragazzi Perché volete stravolgere Le cose Quando non le sapete Atteniamoci a quelle Che sono le realtà Che noi abbiamo vissuto E che ci hanno Che ci hanno E che ci hanno detto Poi il resto È tutta È tutta acqua calda Che non serve a niente Fermiamoci 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 Perché poi Continuiamo a parlare Domani sera Nel nostro Consueto appuntamento quotidiano Intanto saluto I miei campionissimi Ciccio Graziani E Vincenzo D'Amico A domani Ciao ragazzi Buona serata a tutti Ciao 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 Cancellotti è leader nel settore Delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo E di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio Cancellotti Da oggi la sicurezza stradale Ha un nome Autotrasporti RDS Trasporti su strada a livello nazionale e internazionale Trasporto merci, conto terzi e logistica Facchinaggio e smistamento pacchi Confezionamento e imballaggio Dotata di un parco veicoli all'avanguardia Con sistema di geolocalizzazione Ha come principale obiettivo La creazione di un rapporto professionale di fiducia Basato su una esperienza consolidata nel tempo Per informazioni www.autotrasportirds.it Autotrasporti RDS Trasportiamo il tuo business Autotrasporti RDS Autotrasporti RDS